Quante bottiglie consumavi prima? Tante. Tante tutti i giorni? Sì. Con questa borraccia si può riempire quante volte vogliamo e senza consumare plastica che effettivamente non avrebbe senso. Addio alla plastica all'istituto comprensivo Giorgio Vasari di Arezzo. La scuola ha infatti deciso di diventare plastic free. I ragazzi lo chiedono, come possiamo vedere anche ultimamente quello che sta succedendo a livello internazionale, Greta in primis. I ragazzi sono molto arrabbiati con noi adulti che non riusciamo a fare abbastanza per questo. Ci chiedono proprio un impegno fattivo. Quindi via libera borracce in alluminio e distributori d'acqua potabile per sostituire così le bottigliette di plastica. Abbiamo avuto il cofinanziamento di una parte delle borracce da parte di AISA Impianti e da parte di nuove acque che ci hanno fornito i fontanelli che ci danno acqua fredda e acqua a temperatura ambiente. Il nuovo anno per i circa 1300 studenti è dunque iniziato più green che mai. Grazie alle borracce si eviterà il consumo di circa 400.000 bottigliette di plastica in un anno. Tante, tante, tante. Ne prendevo due al giorno perché una la perdevo poi con i soldi. Quindi ora abbiamo ridotto e c'è solo questa. Perlomeno noi facciamo il nostro piccolo, contribuiamo a diminuire. E si spera che orizzontalmente questo messaggio passi anche all'esterno, nelle famiglie, agli amici e verticalmente soprattutto per il loro futuro come cittadini del mondo di domani. L'istituto da anni porta avanti la promozione di buone pratiche di cultura attenta all'ambiente sia dentro che fuori la scuola. È importante tenere d'occhio il nostro ambiente. Viviamo su questo mondo e se non lo prendiamo con cura può finire male.